questo qui è rose beef, guardiamo, com'è che si chiama questa? pluma, pluma un po' strana cipolline, insomma ragazzi, quasi magna, quasi magna allora ciao a tutti oggi domenica sera siamo al tape di Saronno e sono qui con Lorenzo, dopo una settimana difficile, salutino del Lori, dopo una settimana difficile andiamo in questo posto a mangiare così ci riposiamo un pochino vi porto con me in questa avventura, il posto a me piace, all'aperto, tranquillo, adesso ve lo faccio vedere e vi faccio vedere anche un po' come funziona il tutto eccoci qua, allora andiamo a scansionare, ragazzi come abbiamo detto siamo al tape di Saronno scansioniamo il parco e andiamo in questa parte qui è interessante capire che ci sono, potete mangiare con 25 euro gratuitamente poi ci sono tappa sulla carta e l'aperitivo e il padellino con la pizza, bisteccheria, dessert, c'è un po' di roba io e Lorenzo oggi abbiamo deciso per questo, il grande Lori, salutino del Lori praticamente vedete c'è tutto un reparto all'interno e un reparto fuori e andiamo dal nostro amico della griglia facci vedere cosa stai facendo di buono patatine e patate a forno e una flat iron fantastico, fantastico, grazie questa è la mini orecchietta di elefante, come vedete è lunga, è piccolina, noi siamo abituati a quelle grossissime hamburgerino di angus, proprio piccolino come vedete, olivette e il buon Lori ha il suo vite all'ottonato è il diaframma, quello che serve per cantare Lorenzo invece, anche lui ha preso, guarda che bella questa salsa viola, veramente buona, veramente allora adesso andiamo già a questo, un po' particolare, la pluma andiamo ad assaggiare, dovrebbe essere un maiale un po' speziato e poi andiamo con questa salsina viola andiamo a vedere com'è, sembra interessante è buona, è un misto tra dolce, no cazzo, buona ragazzi il vomichino viola è fantastico, non so bene cosa sia e anche la carne di maiale è tanta roba la cosa veramente interessante è che comunque sono piatti piccolini ma buoni, quindi mangi robe particolari tipo le olive di prima, erano olive, dove erano di dove erano l'olive, un po' del sud forse molto buone, molto buone, quindi assaggiate un pochino di roba, di tutto e poi la cosa interessante è che ordini, cerignola cerignola di berri siamo tornati ai tempi di Gris guardate che macchinetta qui ragazzi, bellissima guarda che bella fantastica, fantastica, bellissima bruschettina al gambero e bruschettina al lardo andiamo a assaggiare questa bruschetta vediamo se si vede con gamberetto, burrata e pistacchio apro una parentesi sul pistacchio secondo me stanno un po' esagerando ce lo metto in apertura un po' rotto cazzo quindi cuochi di tutto il mondo basta, pistacchio e terra per cazzo questo è stracciatella ragazzi, stracciatella e gambero questa è una roba pazzesca allora abbiamo provato il tape a Saronno è molto buono piattini di tanti tanti tipi di gusti quindi magari qualcosa può non piacere o no ma tutto molto buono quindi super consigliato la versione all you can eat 25 euro più le bevande super top ciao